Come potete vedere dalle mie spalle oggi facciamo un giro a molte regioni, è un incastellamento che si trova fra Firenze e Sena, è già provincia di Sena, seguitemi! Grazie a tutti! Questo è un incamminamento che è possibile fare sulle mura di Monteriggioni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!